Ce l'occupo questa mattina su Veneto Banca. Cupo come l'umore dei soci travolti dalla frana delle azioni. Allora l'amministratore delegato lancia questo messaggio. Io vorrei che ci ascoltassero e vorrei che provassero con noi a seguire questa nuova strada. Non ho ricette magiche. I tempi sono sostanzialmente cambiati. Voi avete vissuto perché di nuovo avete il mestiere in mano. Che cosa è successo nel mercato bancario degli ultimi anni? Le borse sono dei mercati particolari. Stride questa richiesta in una sala da mille e una notte. Ultimo piano di un edificio che ha rappresentato la forza economica di questa banca Veneta che ora fa i conti col passato. Troppi prestiti leggeri. I famosi mutui esagerati al 120%. Troppe le sofferenze inesigibili che una crisi nazionale ed europea ha portato non solo a Montebelluna ma in Romania e nelle altre affiliate nate sull'onda della delocalizzazione trevigiana. Accanto a questo però una macchina per certi aspetti faraonica con le 150 auto blu di un parco macchine aziendale che qualche dipendente ha paragonato a quello della Fiat. Ora è il momento dei tagli per tutti. Dirigenti, dipendenti e azionisti con una speranza. Il mio obiettivo è di minimizzare se non di azzerare qualsiasi tensione sociale. Tensioni che Carlos sa già difficili da contenere il 5 dicembre quando verrà approvato il passaggio in borsa. Come lo sa il presidente Favotto pronto però ad affrontare i soci. I soci sono protagonisti e parte integrante e tutto quello che stiamo facendo è proprio per minimizzare il rischio di perdite e quindi di massimizzare quanto riusciamo a ottenere la fine di un percorso così complesso che impone il passaggio della banca da una logica di cooperativa ad una logica di mercato. Presidente che non tralascia l'ipotesi di un'azione legale nei confronti della passata dirigenza e per dare un segno di stacco rispetto al passato l'attuale dirigenza è a tempo determinato. Il percorso convenuto e monitorato quasi settimanalmente dalla BCE prevede che questo Consiglio d'amministrazione che ha progettato il tutto e che lo sta lanciando e seguendo in diretta all'aprile 2016 quando presenterà il primo rendiconto col bilancio 2015 si dimetterà. Infine tra i tagli anche quello alla sponsorizzazione delle Juventus che forse piacerà meno ai tifusi del calcio. Noi siamo amici di tutti quelli che ci hanno voluto bene e che ci sono stati assieme. Al momento noi non possiamo prevedere questo tipo di spese però garantisco che se ci dovessero essere dei miracoli e nulla si può dire si può ripensare a tutto.